Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Oggi sono qui perché vi voglio portare questo prank che è davvero un prank bellissimo Fatto suo meagol con qualche persona, poche persone però ne vale veramente la pena Mi sono diversito tantissimo e spero che possiamo fare qualcosa del genere Per la prossima volta ovviamente Comunque vorrei in questo momento salutare queste persone che ci tenevano molto a essere salutate Quindi un saluto grande a Francesca, Valeria e Luis Veramente fa ridere perché comunque poi lo scoprirete nel video penso più o meno Comunque vi lascio al video e buona visione Bella raga mi raccomando con i like Bella Ciao 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 Non parli? Non parli? What the fuck? Shit! Why? Where are you from? Neppols Oh Neppols Wow Wow, he's very beautiful Neppols Wow What's up? Oh, what's up dude? Yeah dude How old are you? 49 Oh, what? What? Yeah, ex-old Oh, okay, okay Oh dude, he's very good Yeah, yeah, okay man You very my brother You very my brother Yeah Yeah, nice You're my brother Yes, man With me Me too Me too Me too You very special person, man Yes Thank you, thank you No problem, man No problem Vabbè, va Non ti preoccupa, va Parram, non ti preoccupa Ma ci hai rotto un po' con lo cazzo Ma ci hai rotto un po' con lo cazzo Ma ci hai rotto un po' con lo cazzo Quasi lo moso, bro Sto registrando, vuoi salutare? Vuoi salutare? Vuoi salutare? Ciao ragazzi, iscriviti al canale del mio bro Dark Chaos 92 Yes Solo quality Solo quality Solo quality Peccato che non si vede bene la tua webcam Mannaggia, porco il cazzo Eh vabbè, dai, non ti preoccupa Ti rivedrai nel video Ciao ragazzi Bella zi Seguitemi su Instagram Zero mental suicide Perfetto, a posto Ciao Bella, bella Tutti italiani tutti se che io dico come te Hello 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 Si, in cazzo te lo ho, Italia Where are you from? Italia? Italia Oh, nice Italy man I'm from Canada I'm from Canada Good, good, good Yeah Oh, yes, yes And your country? I'm country My country How many? City, city Your city Ah My city Milan Oh, Milan Oh, Milan Yeah Nice, nice man Very good Milan Yeah You? Me? Yes Oh Me Centre Canada Canada Centre Centre Canada Yes 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 Vabbè C'è alla fine l'importante è che ci capiamo, capito? Quindi vai tranquillo Coach, 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 coach Dove sei? Hai capito? L'importante è che ci capiamo Ma parli bene l'inglese? Che cazzo hai studiato? Dove studi io? No, non studio l'inglese io Come cazzo vai a parlare così bene l'inglese? Tramite giochi, ho imparato tramite i giochi Eccolo qua Eccolo qua, eccolo qua, eccolo qua Sì ma adesso sto registrando però Continua il beatbox, vai Mamma mia Mamma mia Grande Hai Instagram? Sì Ok Ragazzi Si chiama Jesus Spazio Zanzi Seguitelo 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 su Instagram Seguitelo Grazie a Dio Bella zì Ciao Ciao ci vediamo, ciao ciao Bella 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 Hello Hello Where are you from? I'm from Japan And you? What? You Japan? What? Yeah Seriously? Yeah Oh my god You Japan and your city? I live in Ravenna What? I live in Italy Oh You Italy Yeah But 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 Do you speak in Italian? What? No I don't Speak in Italian? No 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 I speak in English man No speak in Italy Sorry I'm sorry I live in Italy But I'm in Japan Oh wow Very good Ok Yeah yeah Ma dimmi un'altra cosa Cioè Don't speak in Italy Hello 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 Where are you from? Where are you from? Italy Oh wow Italy Very cool And your city? And your city? Cosenza Calabria Oh Calabria Wow Wow I don't speak in English very very good Oh no problem man No problem man No problem man Oh in Calabria In Calabria It's very special The food The food is very special Yes food And Pepperoncino Pepperoncino? Yes Yes man It's very important It's Pepperoncino Wow L'importante è che comunque ci siamo capiti Giusto? Sì Infatti 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 Guarda sto registrando Guarda sto registrando Davvero Quindi uscirete nel video No sei un grande Ecco A posto Salutate voi stessi Salutate voi stessi Ciao me stessi Ciao me stessi Hello 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 motherfucker Oh why Where are you from? I'm from Italy I'm from Italy Oh wow Italy is very cool Italy is very cool Yes Yes What? 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 Solo un italiano può dire What? What? I don't understand I'm sorry I don't understand I don't understand I speak English I don't understand I don't speak English You are Italian Oh no Oh no Oh no Oh no Sorry mamma My... My... My country is Canada My country is Canada I'm from Canada I'm from Canada Il signore ha preso... Ha preso... Come si chiama... La tequila E io... Io l'ho bevuta E... Allora il signore ha detto Ma perché dovrei pagarla? Io l'ha bevuta lui E il barista ha detto Ma io ero girato E non ho visto la scena Non ho seguito Dovrete descrivermi le dinamiche E no... Tu devi pagare lo stesso Sono due euro Grazie Eh però l'ha bevuto lui Non funziona così Quello mi ha risposto E poi praticamente Io ho detto Sei euro e cinquanta E facciamo lo sconto Cinque e cinquanta Ma come cinque e cinquanta? Io l'ho sempre pagato Un euro e cinquanta Eh sì ma guardi Non mi faccia chiamare i carabinieri No no guardi Per l'amor di Dio No 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 Siamo su prank Prank on TV Prank 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 Candid Camera Alle tre di notte Un evento straordinario Non stiamo registrando Comunque Non facciamo canale YouTube Facciamo semplicemente Due ore di cazzeggio Di divertimento E portiamo un po' di allegria Sulle persone Su on TV Per vedere come reagiscono Buonanotte Per l'amor di Dio Per l'amor di Dio Per l'amor di Dio